Ulisse lascia l'ade e favela per Itaca. È finalmente sulla via di casa. Ma ad aspettarlo c'è subito un nuovo ostacolo. L'isola delle sirene. Le sirene sono creature misteriose il cui canto è così bello da mandare fuori rotta ai marinai e farli naufragare sugli scogli. Ulisse sa di essere prossimo all'isola delle sirene. Così ordina ai suoi uomini di riempirsi le orecchie di cera per impedire loro di sentire il canto delle sirene. Ma lui, uomo di insaziabile curiosità, è l'eccezione alla sua stessa regola. Ordina ai suoi uomini di legarlo all'albero della nave. Così potrà ascoltare le sirene senza dirigere la nave contro gli scogli dell'isola. Mentre costeggiano l'isola, Ulisse grida ai suoi di slegarlo, ma loro non possono sentirlo. Così ascolta il canto delle sirene. L'unico uomo ad averlo fatto senza.